40.000 paia di scarpe sequestrate, calzature che se immesse sul mercato avrebbero fruttato alla camorra oltre 500.000 euro. Gli uomini della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale di Napoli continuano le loro operazioni volte al contrasto della contraffazione dei marchi, alla tutela della buona fede dei consumatori e degli operatori economici e dell'economia legale e questa mattina in seguita a una lunga operazione di controllo del territorio sono arrivate al sequestro di un ingente quantitativo di merce. Occultate dietro un carico di copertura proveniente dall'estremo oriente, le scarpe, tutte marcate Hogan, viaggiavano in un container in arrivo al porto di Napoli. Le indagini sono tuttora in corso sulla copiosa documentazione sequestrata all'atto delle perquisizioni che dovranno accertare, oltre che responsabili del traffico illecito, anche il sito del probabile stoccaggio della merce che è apparsa agli occhi dei militari di pregevole fattura.